Ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdere nulla, il meglio delle nostre trasmissioni, le editoriali, notizie, approfondimenti, dibattiti. Qui sotto poi potete commentare e scatenarvi con il vostro punto di vista, sempre con civiltà e rispetto ovviamente. Allora parliamo di Mercato Milan, è sbarcato Ciucquezze, giocatore che personalmente tra tutti quelli presi, e sono tanti, oggi sono sette in totale, è quello che mi dà un po' più di entusiasmo, di curiosità e di sensazioni positive, perché ha caratteristiche che potrebbero davvero ribaltare la fascia a destra del Milan dopo anni di difficoltà, perché da diversi anni insomma il Milan lì ha un problema che non è riuscito a risolvere, come una pace di Messias e Salemakers, Ciucquezze, sembra un giocatore davvero molto 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 più forte. Nigeriano, 24 anni, extracomunitario, ma attenzione, novità di questa mattina, il CONI ha accettato la proposta della FIGC e quindi i giocatori inglesi sono considerati a tutti gli effetti comunitari per il nostro calcio. Per il discorso Milano è importante, perché l'Oftus Cic, che era ex comunitario fino a ieri sera, oggi diventa comunitario, e quindi Milano può fare, dopo Ciucquezze, un'altra operazione di extracomunitari, e quindi torna all'attualità anche non l'ipotesi Camada, da quello che mi dicono non è un profilo più da seguire, Camada non arriverà al Milan, ma attenzione a Taremi, perché fino a un certo punto i due giocatori erano alternativi, adesso, arrivato Ciucquezze, potrebbe anche arrivare Taremi, con il Milan che vuole fare un'altra operazione come numero 9. Oggi si parla molto di Cabral, della Fiorentina, brasiliano, 25 anni, non un grande goleador, sinceramente credo poco a questa pista e non ho conferme al momento. Però il Milan, grande protagonista del mercato, non si vuole fermare qui, vuole fare altre operazioni. La prima operazione con il Real Madrid è stata positiva, anche se è stata poi una sconfitta. A centrocampo il Milan vuole inserire Musa, trattativa calda con il Valencia, il Milan che vuole spingersi al massimo a 20 milioni, oggi è fermo a 18, Valencia che chiede 25, interverrà nelle prossime ore Giacomo Guidolin, agente del giocatore, per cercare di sbloccare questa situazione. Però Musa è una mezzala, l'Offsu Cic si è presentato ha detto io sono una mezzala, Reinders è arrivato e si è presentato come mezzala, ha un concetto rivalito anche questa mattina sui giornali. Per questo manca, secondo me, la figura centrale, il play, che non è né uno né l'altro né l'altro ancora. Vedremo se potrebbe essere quel Dominguez che piace molto a Pioli, giocatore del Bologna argentino, che ha soltanto un anno di contratto. Milan che vuole sistemare il centrocampo, che là davanti ora deve cedere, si passa nella fase B, quella delle cessioni. Orighi è sempre tutto piuttosto fermo, con il giocatore che sta molto bene a Milano. Per quanto riguarda Rebic, una proposta del Besiktas lo vorrebbe però in prestito e con una parte dell'ingaggio pagata. Mal che vada sarà quella la soluzione, però Milan spera di riuscire a ricavare qualcosina, o comunque di non pagare l'ingaggio, 3 milioni e mezzo di euro. Rebic, giocatore che è fuori dai piani ormai da diverso tempo, ricordiamo che non aveva preso parte alle ultime due partite della scorsa stagione per scelta tecnica, per punizione, e che non partecipa neanche a questa tournée, neanche all'amichevole della scorsa settimana, la sgambata contro il Blumezzane. Vediamo le evoluzioni. Su De Ketelare, anche qui, dopo qualche sussulto la scorsa settimana, aspettiamo novità. De Ketelare non rientra nei piani del Milan, lui però vorrebbe restare. È chiaro che se si riuscisse a piazzarlo senza fare minusvalenza, e a bilancio a 28, il Milan avrebbe tante risorse in più da investire per il numero 9. Abbiamo detto di Taremi, vediamo se si possono creare altre situazioni. Ad esempio, ora potrebbe anche arrivare Baloghan, che piace molto all'Inter, è americano, e sapete quanto il Milan stia guardando molto anche i giocatori americani. Pulisic, Musa, e Baloghan potrebbe essere il terzo, per raggiungere e avere performance migliori nel mercato commerciale americano, dove il Milan si trova oggi per questa tournée, che sarà redditizia da un punto di vista economico, e sarà importante anche per forgiare dal punto di vista tattico il Milan. Attenzione anche dietro, perché Baloghan è in uscita, il Milan lo ha di fatto venduto al Fulham, ma manca la sua parola ultima, il suo ok, che tarda ad arrivare, lo avevano proposto anche al Bologna, al Milan sta bene, anche qui speriamo ci possano essere evoluzioni positive nelle prossime ore. Milan che dovrà sostituirlo, possibilmente con un giocatore delle liste Vivaio Italia, perché oggi Milan, come Vivaio Italia, ne dovreste avere quattro, se rinuncia a uno è un giocatore in meno, a Mirante, Sportiello e Florenzi. C'è spazio per un altro, questo dovrebbe essere il terzino sinistro alternativo a Teo Hernandez. Dall'altra parte, sulla fascia destra, Milan che vuole avere un giocatore in più, considerato che Florenzi con un anno in più sarà ancora meno affidabile sulla carta, da un punto di vista di presenza, da un punto di vista atletico, lo scorso anno ha fatto appena 200 minuti di gioco, ha adotto due partite e un po' di recupero, davvero molto poco, anche perché al centro Caluno viene considerato prevalentemente un centrale, nel pacchetto dei centrali, quindi potrebbe arrivare Singo, ma se ne parlerà ad agosto, non è l'unico nome, c'è anche Fresneda, spagnolo molto interessante, poco più che Maggiorenne. Milan che farà anche un difensore centrale, perché Gabbia è da questa mattina ufficialmente un giocatore in prestito per un anno del Villareal, e nei centrali ora ci sono quattro giocatori, serve un quinto. C'è Tomori, ciao, Calulo appunto, Kier, serve un quinto, dovrebbe essere un giovane, piace quel difensore Facundo Gonzalez uruguaiano del Valencia, che ha un anno di contratto, quindi si potrebbe prendere a prezzi ancora più ragionevoli, campione del Mondiale Under-20 che ha stregato Moncada. Sicuramente sarà un profilo molto giovane, che si spera con il tempo possa diventare un Calulu, cioè un cotitolare in difesa, dove Kier, con un anno in più, dopo una stagione complicata, anche lui sulla carta potrebbe avere ancora più stop. Guardando un po' al resto, in uscita c'è anche Salem Akers, di Messias c'è questa situazione di distrazione del retto femorale, che rischia di complicare un po' i piani di uscita, anche lui proposto al Begiktas da un intermediario, c'è il discorso con il Torino, ma se ne riparlerà ad agosto, con Salem Akers anche lui in uscita, se arriveranno offerte potrebbe partire, con un Milan che rivoluziona incredibilmente la propria rosa, che avrà anche tante alternative, un Milan che giocherà sulla carta con il 4-2-3, che potrebbe diventare anche un 4-2-3-1 offensivo, a seconda delle partite. Per me oggi il Milan è più forte, perché dietro ha un Mignan che non sarà fuori cinque mesi, si spera, ha uno sportiello che al di là dell'infortunio della papera con il Real Madrid è più forte rispetto a Tatarusano, in attacco Okafor, Cukwetsk e Pulisic, ed eventualmente un'altra punta con Giroud, secondo me il Milan è molto, molto, molto più forte, il punto di domanda in mezzo al campo perché sono giocatori nuovi, l'off-to-sicle nelle prime apparizioni mi sembra un giocatore davvero di una categoria molto alta europea, lì c'è un punto di domanda, però complessivamente secondo me il Milan già oggi è più forte, ma non è finita qui, arriveranno anche altri giocatori. Ditemi che cosa ne pensate, scatenatevi con i commenti, mi raccomando iscrivetevi da questa parte per non perdere nulla dei nostri contenuti su YouTube. Un abbraccio! Grazie! 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 Grazie!